Musica Nevicata a Beffarda per l'entroterra Ligura, Santo Stefano d'Aveto, 10 cm in città e sino a 30 cm sull'altura, ma con gli impianti sciistici chiusi al blocco tra le regioni si prospetta un inverno difficile. In vista del nuovo decreto del Presidente del Consiglio, le regioni premono sulla questione economica. In Liguria l'indice RT è sceso allo 0,7, il secondo più basso in Italia, spiega Toti, che chiede equilibrio tra sanità ed economia. All'udienza generale, dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, il Papa ha proposto una riflessione sul tema della benedizione. Non c'è peccato che cancelli l'immagine di Cristo in noi e il suo amore. Dalla notte alla luce, nella povertà, fra paura e gioia, i temi delle riflessioni di avvento per le comunità della Fontana Buona. Da venerdì, tre appuntamenti in diretta su Telepace. Crescere con gli stranieri accolti, l'esperienza della Fondazione Auxilium di Genova. Oltre 100 persone accolte accompagnate all'autonomia grazie al sostegno di una rete di volontari. Diventare tecnico per gli impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili grazie al corso dell'ente forma, figure professionali richieste per le restiturazioni e gli efficientamenti del bonus 110. Buonasera a tutti, ben arrivati a Tiguglio oggi. Si è concluso alle 15 l'allerta gialla per neve anche sul territorio del Levante ed in effetti nella notte e nelle prime ore della mattina la neve è scesa soprattutto sulle vette più alte dell'entroterra. Un primo passaggio d'inverno in Liguria, questa mattina molte località si sono risvegliate e imbiancate. Abbiamo fatto il punto con il sindaco di Santo Stefano Daveto, Giuseppe Tassi. Quest'anno diciamo che sono nevicata, che sa un po' di beffa, perché purtroppo sarebbe l'occasione per aprire per l'8 dicembre gli impianti. Invece come decreto al momento siamo chiusi. La neve torna ad imbiancare l'entroterra Ligure e la Val Daveto. A Santo Stefano nella notte sono caduti oltre 10 cm in centro e fino a 30 salendo verso Rocca Daveto. Anche mattinata poi i fiocchi non si sono fermati. Nessun problema per la circolazione stradale con gli sgombra neve che si sono già attivati dalle prime ore del giorno. Un evento che in tempi normali sarebbe di ottimo auspicio per la stagione turistica invernale. Il problema è che se non fanno un'aderoga per aprire un po' gli impianti anche solo per residenti o seconde case, per noi sarebbe proprio una beffa. Anche perché la società ha montato anche due cannoni per sparare la neve artificiale al prato della Cipolla. Quindi avrebbe bisogno anche di rientrare delle spese. Località che vivono sul turismo come Santo Stefano sono penalizzate anche dallo stop agli spostamenti tra le regioni con tante seconde case che rimangono vuote. Non è sostenibile perché la gente capisce che siamo in montagna, abbiamo spese di riscaldamenti e cose. Quindi se arriva la gente si apre, se non arriva la gente purtroppo i locali saranno costretti a tenere chiusi. Il Comune sta cercando di promuovere il commercio all'interno del borgo e attirare visitatori dalla costa e dai centri abitati vicini, per quanto possibile con le restrizioni vigenti. Presto sarà allestito l'ufficio postale per le letterine di Babbo Natale. In arrivo poi nuove luci per il castello e un concorso che premierà le vetrine con le migliori luminarie. La cronaca ora dopo intervento per i vigili del fuoco di Rapallo ad Avegno nel pomeriggio di quest'oggi. Entrambi sono ancora in corso. Il primo riguarda un incendio al tetto di una abitazione, il secondo un camion che è uscito fuori strada in via San Lorenzo. L'automezzo che trasporta GPL fortunatamente non ha riportato alcun sversamento a supporto dei pompieri di Rapallo. è stata inviata anche una squadra del comando di Chiaveri. Entrambi le operazioni sono in corso e quindi al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Ed un incidente in autostrada invece si è verificato questa mattina intorno alle 9. Un'auto su cui viaggiavano un uomo, una donna ed un neonato ha scontrato contro il muro di una galleria tra Rapallo e Recco. Il bambino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Gaslini di Genova. La donna è stata ricoverata in codice giallo al Policlinico San Martino. Nessuna conseguenza rilevante per l'uomo. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti l'automedica di Rapallo e due ambulanze, i volontari del soccorso e la Croce Bianca di Rapallo. Vediamo ora al bollettino Covid per quanto riguarda la Liguria, quello diramato nella giornata di quest'oggi, che vede 349 nuovi casi di positività al coronavirus rilevati a fronte di 4620 tamponi processati. Cala il numero degli ospedalizzati, sono 43 in meno rispetto a ieri per un totale di 1.065, di cui 102 in terapia intensiva. I decessi registrati complessivamente nella giornata odierna sono stati 19, le persone guarite 484, numero che fa scendere attualmente i positivi a 154 unità. In Asle 4 i nuovi contagi sono stati 55, proseguono le variazioni nel numero dei ricoveri, oggi 13 in meno, mentre ieri erano stati registrati 12 casi in più. In tutto sono 109 le persone che si trovano attualmente in ospedale, di cui 7 in terapia intensiva. E l'altro nodo della pandemia da coronavirus è quello economico, uno dei più spinosi da sciogliere, anche in vista del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sta per essere emanato. Per il Ministro Speranza accorra ancora qualche settimana di sacrificio per poi mantenere il risultato. Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, chiede che le scelte mantengano un equilibrio tra salute ed economia. Sentiamo. La situazione del contagio, secondo i dati regionali, resta stabile con un calo registrato in tutte le province. Il Presidente della Regione Toti, in vista del nuovo DPCM governativo, mette le mani avanti. La Liguria è la seconda regione italiana con il più basso indice RT. A oggi sostanzialmente in tutte le province è all'incirca 0,7, diciamo 0,7-0,71, è ancora in calo e questa è un'ottima notizia, seconda l'Italia per discesa forse solo alla Sardegna che ovviamente gode di una situazione di isolamento assai maggiore della nostra. Il noto cruciale resta quello delle attività economiche e delle possibili riaperture, oggetto di ampio dibattito nel confronto Stato-Regioni. Nell'informativo al Senato il Ministro della Salute e Speranza si è detto fiducioso, anche se per la stabilizzazione dei primi risultati ci sarà bisogno di altre settimane di sacrifici, indicando proprio nelle giornate delle festività 25 e 26 dicembre e 1 gennaio quelle con potenziali limitazioni anche agli spostamenti tra comuni. Le proposte che le Regioni hanno consegnato al Governo chiedono un importante equilibrio tra la sicurezza sanitaria e il respiro economico. Nessuno spera possa essere un Natale normale, ma un Natale che possa dare qualche profilo di respiro, di fiato alle famiglie, alle attività economiche. Ovviamente ci aspettiamo che il DPCM nuovo tenga conto di questo. Il Ministro Speranza ha ribadito una linea di estrema prudenza del Governo e il mantenimento della zonizzazione. Ci auguriamo che venga fatto con grande equilibrio, tenendo presente tutte le molte esigenze. E a sostegno dell'economia Ligure, la Regione ha lanciato una campagna social per tutto il tempo di avvento per promuovere un alimento tipico della Liguria. Un piccolo gesto per aiutare i commercianti che stanno lottando con i danni economici causati dalle restrizioni anti-Covid, ha spiegato il Presidente Toti. Il prodotto di oggi, martedì 1 di oggi, è l'olio extravergine di oliva che in Liguria può contare su nove varietà. Vediamo anche quali sono le altre misure che vengono adottate dalle singole amministrazioni comunali proprio a sostegno delle persone che stanno soffrendo maggiormente la crisi determinata dalla pandemia da coronavirus. E vediamo sul nostro sito le misure adottate dal Comune di Chiavari. Da oggi, sul sito del Comune, è online il bando per ricevere i buoni spesi alimentari destinati ai cittadini che hanno subito danni economici a seguito dell'emergenza sanitaria. possono fare domanda alle famiglie con ISEE inferiore o uguale a 9.000 euro. I buoni spesa verranno assegnati prima di Natale in base a quanto dichiarato nella domanda. L'entità del ticket è commisurata al numero di componenti del nucleo familiare ed è determinata nella misura di 100 euro per ogni componente sino ad un massimo di 500 euro per le famiglie composte da 5 o più persone. I prodotti acquistabili sono con buoni spesa, sono generi alimentari di prima necessità e farmaceutici. Le domande dovranno essere consegnate entro il 15 dicembre all'ufficio protocollo in piazza nostra Signora dell'Orto o inviandolo all'indirizzo mail protocollo chiocciolacomune.chiavari.g.it Come vedete sul nostro sito ci sono anche dei numeri di telefono di riferimento 0185365499 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 al 10.30 oppure l'ufficio in forma giovane di via Gagliardo 0185306814. Un'iniziativa analoga è adottata anche dal comune di Lavagna sempre attraverso i buoni spesa. Anche in questo caso tutti i dettagli sul nostro sito. Da giovedì 10 dicembre chi ha presentato la domanda dei buoni spesa potrà ritirarli nella Sala Rocca di Piazza Cordeviola dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16. Il ritiro sarà attivo negli stessi orari anche venerdì e lunedì 14. Sabato 12 invece solo al mattino dalle 10 alle 13. La consegna dei buoni spesa potrà avvenire previa richiesta anche a domicilio. Per poter usufruire dei buoni spesa occorre essere residenti nel comune di Lavagna, avere un ISEE inferiore fino a 15.000 euro. Il numero dei buoni spesa è di un valore pari a 50 euro, sarà determinato in base al numero dei componenti del nucleo familiari. Saranno utilizzabili per acquisto di genere alimentari di prima necessità entro la data del 31 dicembre 2020 in alcuni esercizi commerciali convenzionati. Passiamo ora alla pagina ecclesiale che apriamo con l'udienza generale tenuta questa mattina da Papa Francesco. Dio è come un buon padre e una buona madre che non smettono mai di amare il loro figlio per quanto possa sbagliare. È un'immagine che ha usato il Papa nella catechesi per far capire il senso profondo della benedizione. Dio è come un buon padre ed una buona madre che non smette mai di amare suo figlio per quanto possa sbagliare. Lo ha detto il Papa proseguendo il ciclo di catechesi dedicate al tema della preghiera e concentrandosi sulla dimensione della benedizione. Fin dalle prime pagine della Bibbia, ha detto Francesco, si comprende come la benedizione accompagni ogni creatura in ogni fase della sua esistenza e predisponga il cuore a farsi cambiare da Dio. Dio non ha sbagliato con la creazione e neppure con la creazione dell'uomo. La speranza del mondo risiede completamente nella benedizione di Dio. Lui continua a volerci bene. Lui per primo, come dice il poeta Peggy, continua a sperare il nostro bene. La grande benedizione di Dio è Gesù Cristo, ha aggiunto ancora il Papa, è il dono di suo figlio, una benedizione che ha salvato tutti e non c'è peccato che possa cancellare completamente l'immagine di Cristo presente in ciascuno. Un peccatore può rimanere nei suoi errori per tanto tempo, ma Dio pazienta fino all'ultimo, sperando che alla fine quel cuore si apra ai cambi. Dio è come un buon padre, è un buon padre, è come una buona madre, anche lui è una buona madre. Non smettono mai di amare il loro figlio, per quanto possa sbagliare, sempre. Una immagine di amore che ricorda, ha aggiunto Francesco Abraccio, quella delle madri dei carcerati che attendono il loro turno per incontrare il figlio e non si vergognano di chi le vede perché è più importante il figlio della vergogna. Così noi, per Dio, siamo più importanti noi che tutti i peccati che noi possiamo fare. Lui è padre, lui è madre, lui è amore puro. Lui ci ha benedetto per sempre e non smetterà mai di benedirci. E poiché Dio benedice, anche gli uomini possono rispondere con la benedizione, ma sono chiamati, ha aggiunto il Papa, a benedire tutto in Lui, i fratelli e il mondo. Questo mondo ha bisogno di benedizioni e noi possiamo dare la benedizione e ricevere la benedizione. E proseguono anche le iniziative a livello diocesano in questo tempo di avvento, anche attraverso lo strumento televisivo per raggiungere il maggior numero di fedeli. Venerdì sera alle 20.45 dalla chiesa di Gattona si terrà il primo di tre incontri in preparazione a Natale organizzato dalle parrocchie del Vicariato della Fontana Buona. Gli appuntamenti saranno per tre venerdì consecutivi, partendo da Gattona, proseguendo poi a Cicagna e quindi a Certenoli. Saranno trasmessi in diretta su Telepace 4 al canale 218 o in streaming sul nostro sito internet per dare la possibilità a più persone di partecipare. Sentiamo. Anche quest'anno abbiamo pensato di proporre questo momento. Solitamente scegliamo tre chiese, tre delle nostre parrocchie, quindi lungo tutta la valle, in modo da dare la possibilità un po' a tutti di partecipare. Subito non sapevamo se saremmo riusciti a fare o come saremmo riusciti a fare. Poi ci è venuto in mente questo, abbiamo chiesto appunto a voi, a Telepace, di poter trasmettere in diretta questi momenti. Ci sembrava anche la scelta dei temi, delle parole che vogliamo ascoltare, sulle quali vogliamo fermarci in questo tempo. Ci sembrava davvero che potessero mettere insieme l'ascolto del Vangelo del Natale e l'ascolto del tempo che stiamo vivendo. E allora abbiamo scelto Dalla Notte alla Luce, Nella Povertà e Fra Paura e Gioia. Sono tre temi appunto propri del Natale nel racconto di Luca, però sono anche tre temi che stiamo attraversando, mi pare, nella nostra vita. Quindi al tempo del Natale c'era un decreto dell'imperatore, oggi ci sono tanti decreti del nostro governo, e la nostra vita deve un po' adattarsi a queste situazioni, che sono situazioni difficili, ma il Natale mi pare che ci presenti una situazione, ecco, senza voler esagerare o forzare, però analoga. E allora la notte del Natale forse può essere accostata alle tante notti che questo tempo ci costringe a vivere. Allora abbiamo pensato proprio così che in certo modo, per quanto ci ritroviamo a dire che non sarà proprio Natale perché non abbiamo la possibilità di viverlo, di celebrarlo come siamo abituati, come vorremmo, però in realtà forse è ancora di più Natale proprio per questo motivo. E allora ecco questo un po' l'orientamento che ci ha guidato nel preparare questi momenti. E per vivere l'Avvento in famiglia, gli uffici della pastorale familiare delle diocesi Liguri stanno promuovendo una riflessione quotidiana sulla parola del Vangelo, riflessione che viene poi pubblicata attraverso gli strumenti social. Lo potete trovare sulla pagina Facebook pastorale familiare Chiavari, sul sito Diocesi di Chiavari e anche attraverso il sito di Telepace. Ogni giorno dunque un breve commento che viene curato dalle diocesi Liguri al Vangelo della giornata, corredato anche da una immagine e naturalmente declinato ad una lettura che possa essere adatta ad una famiglia. L'accoglienza delle persone straniere è un'occasione preziosa di crescita per i volontari che sono coinvolti. La Fondazione Auxilium a Genova gestisce diversi progetti, tra cui i Siproimi in collaborazione con altre realtà per un totale di un centinaio di migranti accolti. Una iniziativa per accompagnare le persone accolte ad una progressiva autonomia ed un progetto per persone vittime della tratta. Accogliere persone straniere richiedenti asilo o migranti presuppone la predisposizione di un progetto e la relativa approvazione, nonché l'accompagnamento attraverso percorsi di apprendimento della lingua italiana, di ricerca di un lavoro, di passaggi burocratici per l'acquisizione dello status, presupposto essenziale per un riconoscimento giuridico e amministrativo. Ad affrontare tutto questo ci sono persone che sono scappate per lo più da guerre, carestie, violenza e scontri di varia natura, ma a determinare il buono o il cattivo esito dell'accoglienza spesso è l'informazione. L'opinione pubblica non è correttamente informata sui processi che coinvolgono le persone che arrivano da noi, per cui se ne fa un gran parlare, si parla di invasione, si parla di numeri, non si parla assolutamente di persone e questo naturalmente rende tutto più difficile. Purtroppo la nostra gente e la cittadinanza non conosce il vissuto di queste persone, ma se sapessero quali sono gli aspetti che toccano una volta arrivati in città questi ragazzi probabilmente l'atteggiamento sarebbe diverso e sarebbe anche più facile da parte nostra poter poi proseguire i processi di accoglienza, di istruzione, diciamo tutto quello che si fa per dare dignità e dare speranza a queste persone. Fondazione Auxilium accoglie a Genova circa un centinaio di persone in collaborazione con il Melograno e con il Consorzio Sociale Agorà, ospita uomini e donne vittime della tratta assieme a Regione Liguria e con Caritas avviato un progetto per accompagnare le persone accolte verso un'autonomia di vita che si mescoli stabilmente con famiglie sul territorio. È preziosissima la presenza dei volontari perché portano veramente un'area di famiglia all'interno delle nostre strutture e il nostro non è semplicemente un'accoglienza di emergenza in cui si vuol salvare qualcuno. La nostra è un'accoglienza che cerca di rimettere al mondo persone che ne sono state allontanate. Ora parliamo di formazione professionale. L'ente Forma di Chiavari propone un corso sull'installazione e la manutenzione degli impianti a basso impatto ambientale, ossia quelli che utilizzano energie rinnovabili. Dettagli nell'intervista con il dirigente scolastico Gianluigi Zignaico. L'ente Forma ha prorogato fino all'11 dicembre dell'iscrizione al corso di tecnica di installazione e manutenzione degli impianti civili e industriali a basso impatto ambientale. Innanzitutto, in questo corso cosa si può imparare? È un corso che è molto tecnico, che è rivolto proprio agli impianti civili e industriali, quindi l'impiantistica idraulica, termoidraulica, ma non solo, e tutte le energie rinnovabili, quindi il geotermico, il fotovoltaico, l'applicazione delle energie rinnovabili alle impiantistiche. L'integrazione, perché altro, delle energie rinnovabili con gli impianti. In questo momento c'è una forte richiesta di questo tipo di personale, di queste figure tecniche, anche perché gli sgravi del 110% stanno contribuendo a inalzare la domanda di queste competenze. È rivolto a diplomati e a giovani che hanno superato il quarto anno della formazione professionale. Questo corso come è articolato? È articolato in mille ore di formazione, di cui 400 sono di stage, le rimanenti 600 sono suddivise fra una parte teorica e una parte pratica in laboratorio. Durante il corso vengono rilasciate alcune certificazioni trasversali nell'ambito della sicurezza, del disegno informatizzato, il CAD, in sostanza CAD 2D, e anche le certificazioni Trinity College per l'inglese. Il corso, innanzitutto, è un quarto livello europeo, di qualifica europeo, quindi è un livello molto alto. Permette di ottenere anche crediti universitari, poiché è coinvolta l'università in questo percorso formativo, 5 crediti universitari riguardanti fisica tecnica, principalmente fisica tecnica. Poi vi sono altri 66 crediti di altre tipologie. Come diciamo, tempi il corso, quando dovrebbe iniziare, quando dovrebbe finire, quanto durerà? Ovviamente salvo imprevisti che in questo periodo. Chiaramente ci sono tutte le variabili regate al Covid che speriamo si superino con la primavera. Il corso e le iscrizioni terminano l'11 dicembre, quindi subito dopo ci sarà la selezione e di conseguenza partirà il corso. Il corso avrà una durata tra il C7 e gli 8 mesi, presumibilmente salvo imprevisti. L'Accademia del Turismo di Lavagna è uno dei partner del progetto Sofia, che ha come obiettivo favorire la crescita delle piccole e medie imprese turistiche e del turismo accessibile, ossia quello rivolto alle persone disabili e alle loro famiglie. L'iniziativa offre agli operatori turistici delle quattro regioni dell'area di cooperazione mediterranea tra Italia, Francia e una serie di servizi per migliorare l'accoglienza. Le imprese che vogliono usufruire delle consulenze offerte dal progetto devono avere tra i due e cinque anni di vita e possono scaricare la domanda sul sito dell'Accademia del Turismo. C'è tempo fino al 31 dicembre 2020. Il Comune di Chiavari ha disposto lo sgombero dei rifugi di fortuna che alcune persone senza fissa dimora che si trovavano nell'area tra il parcheggio della Colmata a Mare e il mare di Chiavari. Il sindaco Marco Di Capo ha firmato un'ordinanza con cui spiega che l'accesso all'aria è vietato e in seguito ad un sopralluogo della Polizia Municipale si sono riscontrate pessime condizioni igieniche e rifiuti di ogni genere. La presenza di varie persone nell'area, secondo quanto riportato nell'ordinanza, costituisce un potenziale pericolo per la sicurezza urbana. È stato arrestato anche il complice del giovane che aveva rubato e bivaccato in una casa vacanza a Chiavari. La polizia ha chiuso così l'indagine che ha portato in carcere due ragazzi di origine straniera, uno dei quali minorenne, responsabili del reato di furto aggravato e ricetazione dopo aver rubato e bivaccato in alcuni appartamenti nella zona collinare di Via Aurelia. Lunedì gli agenti del commissariato chiavarese hanno eseguito l'ultima custodia cautelare nei confronti del minorenne accompagnato in un istituto penale di Torino. I carabinieri di Santa Margherita Ligure invece hanno denunciato per danneggiamento aggravato in concorso quattro persone di età compresa tra i 25 e i 31 anni, tutti con precedenti. I giovani sono stati ritenuti responsabili di aver danneggiato nei mesi scorsi due autovetture parcheggiate riversando sulla caratteria il contenuto di un estintore. I militari sono stati supportati nell'indagine dall'immagine di videosorveglianza del comune. Per promuovere la mobilità sostenibile e ridurre l'uso della plastica il Parco dell'Aveto ha avviato un progetto che il Centro di Educazione Ambientale del Parco sta concretizzando e sta portando avanti nelle scuole degli istituti comprensivi Valle Calasco, Cogorno, Cicagna. Domani inizieranno i primi incontri per sensibilizzare gli scolari sui temi dell'iniziativa. Nell'occasione saranno consegnate borracce in alluminio per gli studenti del Plesso per disincentivare l'uso di contenitori di plastica, usa e getta. Ora vediamo altre notizie della giornata nel riepilogo del Punto News. È incrementato del 10% il numero dei passeggeri a bordo dei mezzi di ATP da quando domenica scorsa la Liguria è tornata nella zona gialla. In questa fase sono anche tornati i controlli antievasioni che vengono effettuati da squadre di agenti verificatori sia nel Tigulio, sia a Genova e nell'entroterra. Le sanzioni per chi viaggia senza biglietto vanno da un minimo di 60 ad un massimo di 90 euro. A Recco proseguono i lavori di manutenzione sulla rete di deflusso delle acque piovane con la pulizia delle cunette nella parte alta di Via dell'Anè. Gli interventi hanno comportato la rimozione dei detriti e del materiale depositato nel canale con l'uso di mezzi meccanici. Lavori in corso a Neè sul fronte della viabilità e dell'efficientamento energetico. A Statale sta per terminare la sistemazione delle reti paramassi ed è attivo il cantiere per la riapertura della strada per Cassagna interdetta nel 2013 a causa di una frana. Previsto un finanziamento pari a 1.200.000 euro. In Bassavalle sono partiti i lavori in Via Garibaldi dove sarà rifatto l'impianto di illuminazione pubblica mentre per la parallela Via Aldomoro si provvederà alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti. In questo caso è previsto un finanziamento di circa 50.000 euro. Il consigliere comunale chiavarese Sandro Garibaldi del gruppo Lega Chiavari sempre al centro ha presentato due mozioni. La prima sull'intervento di sistemazione della rete paramassi nella frazione di Campodonico chiedendo al comune perché vengano usati soldi pubblici per lavori su terreni privati. La seconda riguarda la richiesta di confronto sul futuro del vecchio palazzo di giustizia in piazza Mazzini. Per contrastare lo spopolamento della montagna e dell'entroterra la proposta del consigliere regionale Fabio Tosi del Movimento 5 Stelle è una semplificazione burocratica e una fiscalità agevolata per consentire l'apertura di nuove imprese dando opportunità di lavoro e sostenendo i giovani. Ora vediamo le iniziative in programma per la giornata di domani nell'agenda curata da Giacomo Rizzi. Appuntamenti in agenda per giovedì 3 dicembre. Prosegue il Salone dello Studente 2020 per gli istituti superiori del Tiguglio. L'evento, dedicato all'orientamento degli studenti della scuola media, propone quest'anno un'edizione interamente digitale in cui è possibile avere videoincontri con docenti e studenti su prenotazione, partecipare a workshop, vedere lezioni o prenotare visite della scuola. A Casarza, appuntamento settimanale con il mercato agricolo e delle autoproduzioni a chilometro zero. Le bancarelle sono presenti dalle 9 alle 13 in piazzale Nostra Signora della Speranza. Y-Lab organizza il Matching Day, un evento digitale per promuovere l'incontro tra start-up, società sportive, federazioni e investitori. La partecipazione è gratuita ed è sufficiente registrarsi al link dell'evento che si trova sul sito opin.com. L'evento è al mattino, dalle ore 10 alle 13. L'associazione culturale Convivio del Tiguglio organizza una conversazione via Zoom intitolata COVID-19, protocolli di cura, infodemia e disagio psicologico. Partecipano l'infettivologo dottor Giuseppe Russo, il neurologo Matteo Pardini, il dirigente medico dell'ASR4 Francesco Razzetta e il giornalista responsabile dell'edizione Levante del secolo XIX, Roberto Pettinaroli. L'inizio è alle 17.30. La partecipazione è gratuita, è sufficiente inviare una mail all'indirizzo info-conviviodeltiguglio.it E concludiamo con il consueto aggiornamento sulla viabilità autostradale. Proseguono infatti gli interventi di manutenzione sulla rete autostradale dell'A12. Dalle 22 di mercoledì e sino alle 6 di giovedì sarà chiuso il tratto tra Sestri Levante e Lavagna, il casello di Genova Nervi in entrata e l'allacciamento A12-A27 Genova Est. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. L'informazione torna domani mattina alle 7.30 con il Tg Rassegna Stampa condotto da Marco Rebello e poi la prima edizione di Tiguglio Oggi in onda alle 12.45. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.